Cinque detenuti della casa circondareale di Contrada Cavadonna saranno impegnati in opere di giardinaggio, di manutenzione al liceo scientifico in Audi e al liceo classico Gargallo di via Luigi Monti a Siracusa. Si tratta di un'attività di pubblica utilità che vedrà impegnati i detenuti a occuparsi di pulizia, giardinaggio, piccoli lavori di manutenzione. L'accordo rientra nell'ambito del progetto legalità promosso dalla Caritas Diocesiana. A sottoscrivere all'accordo il direttore della Caritas, Don Marco Tarascio. Noi siamo passati come Caritas da un percorso assistenziale puro a un percorso di integrazione all'interno della società. Anche per i detenuti diamo la possibilità, anche perché la legge lo permette, di una integrazione della società con lavori di pubblica utilità. Significa lavori non retribuiti, ma accompagnati da un ente esterno che li può sostenere e aiutare in questo momento di riabilitazione e reintegro all'interno della società. Nel fatto che ci sono anche critiche su qualche social o qualcuno storce il muso? Non penso di commentare i social, non mi interessa commentare i social perché noi qui già l'anno scorso al liceo Gargallo abbiamo fatto un incontro con i ragazzi sulla giustizia riparativa che si mette a servizio della società dopo aver commesso un reato per aiutare la società e quindi riparare al danno che ha fatto in maniera concreta. Quindi con i ragazzi abbiamo affrontato un discorso che è stato un discorso molto educativo per loro. Ma come funziona il progetto in questione? Questo progetto nasce dal fatto che nell'ottobre del 2018 è stato introdotto l'articolo 20 ter nell'ordinamento penitenziario e prevede che il detenuto possa avanzare richiesta di svolgere attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità. Si tratta appunto di un'attività che può essere prestata a favore di amministrazioni dello Stato, delle regioni, comuni, aziende sanitarie locali e deve essere svolto in maniera da non intralciare altri interessi come lo studio, il lavoro perché queste persone, per esempio questi detenuti che abbiamo adesso oggi qui inserito nel progetto sono persone che lavorano all'interno dell'istituto, che svolgono anche attività di studio diciamo che sono persone a basso indice di pericolosità sociale.